Il giorno dopo l'assoluzione per l'ex generale del ROS, Mario Mori, e per il suo collaboratore, il colonnello dei carabinieri Obinu, nelle stanze della procura di Palermo, c'è chi mastica Amaro. Rispetto la sentenza, ma non condivido il dispositivo in alcun punto, aveva detto già ieri a caldo Nino Di Matteo, il PM che per cinque anni ha portato avanti il dibattimento, oggi non nasconde la sua delusione e ribadisce che farà appello contro la sentenza di cui adesso si aspettano entro ottobre le motivazioni, che potranno chiarire soprattutto il senso della formula utilizzata dal collegio giudicante, perché il fatto non costituisce reato, un'espressione che esclude il dolo, non il fatto in sé, ma che smonta alla radice, l'impianto del PM e non solo per questo processo. Per il generale Mario Mori, simbolo del ROS ed ex direttore del SISDE, imputato di favoreggiamento aggravato, l'accusa aveva chiesto una condanna esemplare, nove anni di carcere, per aver favorito la latitanza di Bernardo Provenzano, impedendo un blitz nel 1995. Ma la quarta sezione del Tribunale ha assolto. Il generale continua a mantenere il suo profilo del silenzio, non vuole commentare. La sentenza avrà un inevitabile riverbero sul processo trattativo a Stato-mafia, appena iniziato in Corte di Assise a Palermo, che vede anche Mori sul banco degli imputati. Anche per la nuova netta confutazione della testimonianza di Massimo Ciancimino, espressa ieri dal Tribunale. Secondo i magistrati palermitani, la mancata cattura di Provenzano sarebbe stata frutto di un patto nato proprio all'interno di quella trattativa. Ma ora, con la soluzione del generale, tutto sarà più difficile da dimostrare. La trattativa Stato-mafia non c'entra nulla. In qualsiasi caso siamo solo al primo grado di giudizio, ha detto Antonio Ingroia, l'ex PM che istrui il processo e che oggi ha dismesso la toga per la politica. Domani, anniversario dell'attentato in Via D'Amelio, in cui morirono il giudice Borsellino e gli agenti della scorta, il PM Di Matteo e altri magistrati saranno sul luogo della strage a portare la loro testimonianza e non mancheranno le polemiche.